Pronta veramente a tutto, ad usare la violenza e in alcuni casi anche spray urticanti ed altri mezzi, quindi sicuramente una banda decisa e pronta a tutto. Violenti, senza paura, pronti a prendere a pugni le loro vittime, per la gran parte commercianti cinesi considerati prede molto remunerative e facili da gestire. I carabinieri hanno ricostruito dopo quasi due anni di indagini tutti i colpi messi a segno dalla banda di sinti del Piovese. Imanette, Manolito e Joshua Millas, Giorgio Caldaras, Christian Gottardo e Morwen Latrec. Obbligo di dimora per l'unica donna del gruppo e per un altro 39enne. Un gruppo criminale ben collaudato con una forte gerarchia al suo interno. A capo di tutto c'era una coppia di sinti che faceva rispettare la disciplina e individuava i colpi da mettere a segno. Una volta scelta la vittima, le venivano tagliate le gomme dell'auto e pedinata finché non era costretta a fermarsi per controllare i pneumatici. A quel punto la banda entrava in azione. La svolta è nel marzo del 2018, quando a Sant'Angelo di Piovese viene aggredito un negoziante cinese con lo spray urticante. L'uomo però reagisce e i banditi fuggono. In alcuni casi due rapinatori valenti, Pugili, non esitavano a picchiare le vittime. Tra gli arrestati infatti c'è Joshua Millas, giovanissima promessa della box padovana. Indagato anche un suo parente minorenne, anche lui Boxer, che aveva partecipato ad una rapina in zona industriale a Padova nel gennaio del 2019, sempre ai danni di un commerciante cinese del China Ingros. Quattro degli arrestati infatti si trovavano già in carcere proprio per quella rapina. Uno di loro sarebbe uscito dal carcere venerdì. Ora i carabinieri gli attribuiscono altre cinque aggressioni e sette furti a furgoni. C'è stato un caso in cui hanno appunto prelevato due ragazzi che avevano un debito nei confronti della banda, li hanno prelevati dall'abitazione, portati presso il loro covo e trattenuti lì per oltre un'ora finché non hanno avuto la sicurezza che il debito sarebbe stato onorato. La banda utilizzava delle potenti auto in caso di inseguimento con le forze dell'ordine. Inoltre era affiancata da una serie di ricettatori che smarciavano cellulari e tablet rubati durante i furti. Nel covo i carabinieri hanno anche sequestrato un grosso martello fortunatamente mai utilizzato durante gli assalti.